La nostra di oggi si vive un momento di grazia di Dio, una grande gioia, perché li vedete questi due disgraziati, li chiamo così scherzosamente, Michele e qui abbiamo Giovanni, questi due giovanotti hanno detto sia il Signore, hanno deciso di farsi prete per fare la corta, insomma è una bella scelta, ascoltiamoli. Io sono Michele, 39 anni, nativo di San Vito e ho scelto di seguire il Signore, a dire la verità, un po' tardino, sono entrato in seminario a 32 anni, prima però di entrare in seminario ho lavorato per nove anni per una compagnia di assicurazione e poi per entrare in seminario mi serviva il diploma e quindi lavoravo e nello stesso tempo per tre anni frequentavo una scuola serale qui in centro a Lucca, per cui lavoravo. E poi la sera andavo a studiare. Ho ottenuto il diploma, la sera stessa chiesi al vicerettore di allora di poter entrare in seminario ed eccomi qui ad attendere domani l'ordinazione presbiterale con molta gioia. Sì, come diceva l'Arcivescovo, noi siamo due disgraziati ma il Signore è infinitamente buono e quindi ci accoglie a misericordia. E niente, io non sono appunto più buono degli altri ma anzi io ho avuto una vita normalissima, sono stato fatto il liceo scientifico a Capannori e niente, ho seguito il mio iter normale. Dopodiché quella che era una cosa che sentivo da bambino, appunto la chiamata del Signore, poi per vie misteriose il Signore me l'ha riproposta sull'età di 18-19 anni. E così per caso ho conosciuto il seminario non sapendo che esistesse e non so come mi ci sono ritrovato. E ringrazio il Signore di questo dono che appunto ora si concretizza nell'ordinazione. Insomma, come avete capito con grande gioia, io continuo a dire, questi due si sono fatti male con le proprie mani, cioè in altre parole si sono messi nelle mani di Dio. Carissimi giovani, l'appello a voi, andate a trovarli questi due amici, da domenica alle 17 in cattedrale diventeranno preti, vivono a Sant'Anna, andate a parlare con loro. Credo che sia bello perché qualcuno, tutti dobbiamo dire, ma della vita che ne posso fare, che ne voglio fare, forse ci diamo una mano insieme. Auguri a voi due. Grazie.